Utilizzava speed di altri per entrare nel sistema e riusciva, con qualche trucco, a prenotare online appuntamenti rapidi per il rilascio del passaporto, per il quale normalmente bisogna armarsi di santa pazienza ed aspettare tempi lunghi. La titolare di un'agenzia di viaggi di Piacenza si faceva pagare questo servizio 20 euro dai suoi clienti. Alla fine però gli addetti dell'ufficio della questura di Piacenza si sono insospettiti e sono partite le indagini della squadra mobile. La donna è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio, esercizio abusivo di professione e falsa attestazione a pubblico ufficiale.